Il piacere e l'orgoglio di presentare a modo mio Castiglion Fiorentino anche in Svizzera nella serata organizzata dal gruppo esponenti italiani di Lausanna. Nei mesi in cui i turisti non vengono andiamo noi da loro per preparare al meglio la prossima stagione. Così il sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli ha raccontato la trasferta a Lausanna per presentare non solo i prodotti enogastronomici ma l'intero brand Castiglion Fiorentino. Grazie all'invito del presidente dell'associazione elvetica Gruppo esponenti italiani Alessandro De Vita Zublena che peraltro contattato si è detto entusiasta del progetto anche di scambio turistico. Lo scorso fine settimana mi è stato possibile, prosegue il sindaco, rappresentare Castiglion Fiorentino e per quanto mi compete la Valdichiana Lausanna. Con il supporto di Coldiretti Arezzo, era presente la presidente Lidia Castellucci, è stato così possibile conquistare i commensali a tavola con le nostre eccellenze. La tavola di Castiglion Fiorentino per, mi scusi dei vegani, per la carne chianina, la bistecca chianina è in Valdichiana. Io sono uno, il sindaco di uno dei sette comuni della Valdichiana dove la carne chianina ha la sua origine. L'olio, sono il coordinatore regionale per ricettare l'olio, l'associazione nazionale appunto di mezzo e il vino. Mi sono portato via il piacere di aver conosciuto tanti italiani che si sono affermati all'estero ma che hanno sempre l'Italia nel cuore e che sono sicuro prima o poi verranno a trovarci, ha concluso il sindaco Agnelli. Con queste poche parole che vi ho, spero di avermi fatto venire a Piosità e spero che voi possiate venire ospiti a Castiglion Fiorentino nella nostra città. Grazie Alessandro.